Chi è questo grande re che paga degli assassini con volete d'oro? Perché uccidano mio padre, il nostro re, in maniera così spregevole e vigliacca? Chi è questo grande re, Dario, che schiavizza i suoi uomini per combattere? Chi è questo re? Sono il sovrano dell'arca. Questi uomini non combattono per le loro case. Combattono perché il loro re glielo impone. E nella battaglia si risolveranno come anni. Perché non c'è l'altra, perché il re è degli schiavi. Ma noi non siamo qui oggi come noi. Noi siamo qui oggi come uomini, macedoni e liberi. Alcuni di voi e io stesso forse non vivranno fino a vedere il sole tramontare sopra queste montagne. Ma io vi dico quello che ogni guerriero sa dal principio dei tempi. Vincete la paura e vi prometto che vincerete la morte! Voi potrete rispondere! Io c'ero quel giorno a Kaugamela! Per la libertà e la gloria della Grecia! Sao sia con noi! Grazie! Grazie a tutti!